Molto bene Respira piano 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 Ciao 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 Grazie di essere qui Con me oggi Se sei qui è perché in questo periodo o in questo momento in particolare stai soffrendo di stress purtroppo è una cosa molto comune e vorrei provare tramite i miei umili mezzi ad aiutarti un pochino a farti passare lo stress a farti rallentare il battito a portare via tutti i pensieri a far rilassare il tuo corpo ok? ci provo io sono qui per te e per farti anche sfogare un pochino quindi se vorrai raccontarmi qualcosa sappi che qui sei in un posto sicuro ci siamo e ci siamo solo noi due quindi puoi dirmi e sfogarti quanto vuoi ok? sulle cose che ti creano appunto questo malessere ok? ti chiedo anche visto che vorrei che questi video fossero il più effettivi possibile di dirmi poi nei commenti qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più che ti ha calmato di più il tuo momento preferito e anche di supportare il video con un pollice in su perchè per me è molto importante per capire se questo video ti sarà stato utile ti sarà piaciuto se ne vorresti altri simili io vi leggo sempre mi metto sempre il cuoricino e se questi video sono per te mi piacerebbe sapere cosa ne pensi come primissima primissima cosa vorrei applicarti questo questo protettino l'ho preso apposta per te apposta per queste situazioni si chiama si chiama distress parma in questo barattolino di vetro di alluminio ti leggo ti leggo le istruzioni per tornare nel qui e ora applica su tempie dietro le orecchie nuca i polsi interni respira e attegni i 15 minuti lo faccio su di te e dopo lo faccio anche su di me ed è appunto un balsamo antistress te lo lascio annusare ha sicuramente un odore forte di lavanda però ha anche qualcosa di balsamico è un odore delicato ma che ti entra bene dentro che già ti rilassa proprio a ispirarlo quindi c'è scritto tempie dietro le orecchie nuca ai polsi interni ne prendo un po' appoggio appoggio un balsamo a base di olio tempie ok? se vuoi chiudi gli occhi faccio una leggera pressione per appunto fare un massaggio senza esagerare respira piano 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 dietro le orecchie eh sì qui è super rilassante spesso spesso si accumula anche molta tensione qui sul collo nell'atello del collo poi era era dietro la nuca quindi vado dietro potrebbe essere qui dietro la nuca dietro di te ok? puoi appoggiare un po' la testa sulle mie mani se vuoi e basta massaggiare delicatamente anche questo punto che viene male spesso molto teso ok? ok? e poi dammi pure i polsi ok? dammi pure i polsi ok? dammi pure i polsi ok? ok? continui a respirare senti come si sprigiona questo profumo questo profumo ok? adesso lo faccio anche su di me perché è sempre utile e secondo me è molto rilassante anche vederlo fare sugli altri quindi ne prendo un po' tempia ora ne prendo un altro pochino vado dietro le orecchie qui di solito facciamo molta tensione qui e sui polsi ovviamente devo fare prima uno e poi l'altro io mi sento già molto meglio che so fantastico grazie Palm adesso volevo accendere una candela e offrirti una tisana calmante è tutto in tema anche questa candela sa principalmente di lavanda un po' più dolce molto buono si chiama perfect night's sleep e ha lavanda inglese basilico dolce e jasmine andiamo andiamo all'accendela prendo come al solito un fiammifero vediamo 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 questa dove viene da Flagstaff Arizona si vedeva che era americano ma queste queste questi sono fiammifero che ha mio suocero che collezionava mio suocero adesso non gli frega niente se li li prendo che si andava nei ristoranti e nei nei bar americani ma in generale quando ancora si poteva fumare all'interno che si non sono ma non Ok ok, facciamo tre respiri e appoggiamo la candela prima di offrirti una tisana ma capirai perché te lo offro dopo perché ho preparato un'attività per noi che spero ti piacerà tanto comunque voglio rilassare un attimo il viso e le orecchie con un suono ok ok secondo me ti levo già fatte vedere una volta facciamo sono delle super carine cioè solo guardarle vi fanno una tenerezza incredibile ambolline andiamo a lasciare un paramento con questo suono e 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 adesso facciamo un attimo di rilassamento al viso veloce usando appunto le ampolline e e e e molto bene e e ancora e e e e Sotto agli occhi, anche qui, sopra le palpebre, sopra le sopracciglia, adesso un pochino intorno alla bocca, ok? Ok, 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 ok Ok, 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 ok Rimettiamole nella scatola E adesso ti mostro l'attività che vorrei svolgere un attimo con te In cui mi puoi anche, mentre la facciamo, raccontarmi proprio tutto, cosa succede, cosa non succede Sfogarti con me e parlarmi proprio tanto E appunto dirmi tutto quello che vorresti dire, tutto quello che vorresti togliere Che pesa un po', ok, nella tua mente E come attività pensavo di fare una cosa molto semplice Pensavo di colorare, colorare, colorare un libro Insieme Volevo scegliere una pagina con te E poi ci dividiamo il foglio, ci mettiamo di fianco e ci dividiamo il foglio Ad esempio C'è questa pagina con tutte le campane Possiamo un po' colorare Possiamo un po' colorare questa Oppure, questa qui, questa qui, questa qui, da una parte abbiamo tutti gli orologi All'altra questo orologio a co-coo student Con tutti i fiori, 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 fiori Oppure 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 Con questo paesaggio meraviglioso Un po' fiapesco, un po' utopico Tutti questi funghetti Lì Col sole Ti piace questa pagina? Ok, perfetto Sì, è una... sono montagne barra a porta Allora, taglio un attimo questa pagina E ti faccio una tisana in modo che tu possa sorseggiarla Mentre ci mettiamo a colorare Ho tre proposte per te Questa Questa si chiama Casa dolce casa 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 E appunto questa finestra innevata E dentro una bella tisana calda Questa è una miscela di erbe e frutti e fiori per infusione Il suono ricorda tanto il bastone della pioggia C'è scritto che è un confortevole e rasserenante in buio Con vaniglia e cannella Con vaniglia e cannella Non sa di torta Mmm... buono Questa è una prima opzione Appunto una tisana rasserenante che sa un po' di casa La seconda si chiama sogno di leggerezza e questo è fatto se con lo stress ti viene anche un po' di... mi sblocca un po' lo stomaco. E' un delizioso incontro di finocchio, anice e menta. E' queste farfalle che volano sul fiore. Non lo so pure. La terza opzione è la più speziata di tutte. Si chiama Inner Harmony. Si avvina un sacco allo sfondo. Di sicuro hai un po' di... E' anche questa anice molto forte. Se ti piacciono questi gusti molto forti te la consiglio, altrimenti no. No. Ok. Va bene la prima? Casa dolce casa. Casa. Dolce casa. Ho anche questa tisana che dice avvolgersi nel canto, il brazzo di una tisana. prendo un cucchiaio. e il filtro. guarda che bello. è veramente molto molto bello. Ok. chiudo. guarda che carina. metto il filtro e ovviamente il bollitore con l'acqua calda dentro. guarda che bello. l'acqua calda d'acqua calda. Il mio cerchio è una coragine per il palazzo molto stranete. questo è per te. adesso direi che ci possiamo mettere a colorare e mi puoi raccontare tutto 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 allora mi piace tantissimo la pagina che hai scelto non vedo l'ora di colorarla un pochino intanto vediamo 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 e cominciamo con il blu vado a colorare questo intanto raccontami raccontami tutto cosa c'è che non che non riesce a farti rilassare cosa c'è che ti stressa io sono qui per ascoltarti senza giudizio sono qui per te quindi io continuerò proprio sulla colorare ma in realtà ti starò ascoltando ok ok grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Vabbè è normale sbagliare a volte. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.